Questa sera ospitiamo nei nostri studi la senatrice Binetti, è stata la ribalta della cronaca perché indossa un cilicio sulla coscia sinistra, procederemo con un esperimento mistico, la pungeremo ad un dito con un ago per vedere la reazione che avrà. Sì 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 sì, mi fate proprio ridere, sì 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 sì. Cerco Dio, orco Dio, orco Dio, cerco Dio, orco Dio, orco Dio.